Buongiorno, oggi stiamo andando alle Torri del Paine, fa un freddo, non freddissimo ma freddo e siamo arrivati col transfer, c'era un sacco di gente ma come vedete li abbiamo già seminati tutti e siamo partendo Quindi andiamo E' un'azione verde e grigio Qui ci sono dei lodge dove si può venire a passare la notte prima di partire o al rientro dell'escursione C'è un vento che ci porta via Oddio che carino il ponte sospeso Mi sono girata un secondo e guardate che lago super blu Wow, lì dove si prende il battello per andare a vedere il ghiacciaio ma non sarà per noi Tanto per cambiare, io mi sono già cambiata di nuovo e perché non fa freddo però c'è un sacco di vento Quindi la giacca per il vento è l'ideale E partiamo E partiamo E partiamo E partiamo E partiamo Grazie a tutti. Questo è il primo rifugio che si incontra, come vedete ci sono le piazzole per campeggiare, ma noi oggi non campeggeremo, oggi camminiamo. Al rifugio siamo stati superati. No! Abbiamo un nuovo amico, Pajaro. Pajarito! Hola! No vabbè, 502 metri. Buuuu! Dopo i nostri 5.000 della montagna colorata e tutto il resto è noia. Manca 3 chilometri. Ci siamo quasi. Vamos! Questa albero qui ha fatto una brutta fine. Il problema è di quando ti dicono quanto ti manca e che poi continui. Vabbè, ma dovrei essere arrivata, no? Dovrei essere arrivata. Adesso sono tipo... Boh! Una vita che sono in questa foresta aspettando di sboccare dall'altra parte. Sarò presto arrivata. Ehi, questi alberi... Sembra che c'erano tipo le bocce. Intanto è cominciato a sboccare un po' di gente. Ormai sono quasi arrivati. Ok, dovrebbe essere là in cima. Ce la possiamo fare. Intanto li abbiamo superati tutti! Stiamo arrivando! E li abbiamo seminati tutti un'altra volta! Meraviglia! Stiamo già scendendo perché la mia voglia di zuppa è tipo wow! E le mie ginocchia stanno già iniziando a lamentarsi. Ma è tutto rikissimo! Guardate che storia, com'è lucido qua! Perché è dove si aggrappano tutti per scendere! Vedete quello che intendevo? Il tronco dell'albero è completamente lucido! Perché si aggrappano tutti! Siamo a quasi 19 km. Siamo tornati nella foresta di prima. Abbiamo già incontrato tutti i gruppi che erano con noi in pullman. E la zuppa è sempre più vicina! Natura morta! Albero con roccia! Questo è quanto rimane della mia merenda. E questo è il lodge! E questo è il lodge! Siamo tornati! Siamo ancora vivi! E abbiamo fatto 30 km! Le gambe chiedono pietà! Ma tutto è bene! No vabbè, ma vogliamo parlare di questo bagno! Cioè! Wow! Vista montagna! Adesso noi siamo saliti qua! E siamo arrivati qua! Camp Torres! Tempo? Tre ore e un quarto! Super mici! La gente normale ce ne mette quattro! Ma nonostante questo, sulle montagne colorate sono morta! Giusto per darvi un attimo, un quadro generale della situazione! Siamo pronti a tornare a casa! Ciao! Ciao! Ciao!